Ciao, oggi preparo la farinata, una ricetta molto facile e anche molto buona. Adesso vediamo gli ingredienti. 130 grammi di farina di ceci, 320 centilitri di acqua, un po' meno di mezzo bicchiere di olio extravergine di oliva e del sale. In una terrina vado a mettere la farina di ceci e vado ad aggiungere l'acqua. Adesso vado a mescolare facendo attenzione a non formare dei grumi. Alla prossima adesso aggiungo l'olio e il sale e mescolo di nuovo. In una tortiera del diametro 26 andiamo ad aggiungere un po' di olio e ungiamo la teglia. e versiamo il contenuto nella tortiera. Inforniamo a 230 gradi. Ecco la farinata pronta dopo 20 minuti. Buon appetito! Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!